E vi devo dire un'altra cosa, che è arrivata adesso la notizia che il Consiglio dell'Autorità Garante per le Comunicazioni ha all'unanimità dato mandato agli uffici di avviare i procedimenti sanzionatori nei confronti di Rai, Mediaset, La7 e Sky dopo aver esaminato i dati di monitoraggio dal 18 al 23 settembre. Per quanto ci riguarda siamo pronti ad ascoltare le motivazioni di questo singolare annuncio da parte dell'Agicom. Vogliamo ricordare che noi facciamo il nostro lavoro che è il giornalismo e non la farmacia, il bilancino del farmacista. Il bilancino del farmacista che male viene utilizzato da chi è nominato dalle forze politiche e dal Parlamento che quindi dovrebbe guardarsi allo specchio prima di emettere sanzioni, quale che siano. E mi sento di parlare non solo a nome dell'A7 a questo riguardo. Non insegnateci a fare il nostro lavoro. Se ci sono degli squilibri evidenti ne parliamo. Se qualcuno non fa il suo lavoro con disciplina e onore è un conto. Ma fare questo tipo di affermazioni è veramente singolare. Ripeto, poi, la pagliuzza e la trave.